Il programma è presentato da Allora, se ti sei candidato, perché ti sei candidato? Qual è il tuo progetto? Allora, io sono candidato al Consiglio degli Studenti di Economia. Il mio progetto, come quello dei nostri amici candidati con me nel nostro gruppo, è quello di lottare e batterci per ampliare il numero degli appelli o almeno migliorarne la distribuzione durante l'anno. L'ideale sarebbe avere un appello al mese, come in tante altre università. Un esempio lampante può essere l'Università di Napoli, a cui noi non credo siamo secondi, anzi. Ho capito. Ti ringrazio. Grazie a voi.